Noi viviamo per immagini mentali, Bruno, creandole ad ogni istante, visualizzando posizioni rispetto a un cielo e a una terra non più visibili, posizioni che immaginiamo con un atto di ben calibrata fantasia, molto ben calibrata. Certo, la ben calibrata fantasia ha dei supporti, gli strumenti di bordo che a poco a poco sostituiscono il mondo reale, il mondo al di là del parabrezza che talvolta non si vede più. Abbiamo i sei strumenti fondamentali per la condotta di un aereo e ciascuno che indica una verità. Parlo di verità, Bruno, solo perché tu insisti che così vanno creduti gli strumenti, ma non è senza un leggero fremito che, bucando le nuvole, mi adatto a considerare verità alcune scatoline di metallo e plastica montate sul cruscotto. Ogni volta mi occorre un atto di fede e un piccolo atto di oblio. Anche l'emergenza diventa una consuetudine e una disciplina. Tra l'essere e il non essere ancora in volo c'è ancora una zona franca di secondi, di miglia, di altitudine. Quella è la nostra zona, Bruno. Noi lavoriamo lì. Quello è il nostro posto. Grazie a tutti.